Musica E ciao a tutti ragazzi e buoni in questo nuovissimo video Oggi siamo qui e vi faccio vedere questo nuovo film che ho recuperato in Blu-ray E sto parlando del film Il Mago di Oz Edizione, i film più karaoke Eccolo qua Qui vi faccio vedere la copertina Edizione film più karaoke Il Mago di Oz Bellissima la copertina Con fanetto non vendibile separatamente da letture Blu-ray disc Samsung Questa è la copertina Qui c'è il laterale Il Mago di Oz Più tutti i pazzi per loro E un double pack con due film Da una parte c'è il Mago di Oz E dall'altra tutti i pazzi per loro Bellissimo double pack da poter tenere in collezione Qui dietro ci stanno tutte le informazioni dei due film E qui i due film in Blu-ray Questo è un double pack che vendevano insieme ad un lettore Blu-ray disc Molto carina come idea E niente Mettete un piaccio Commentate Iscrivetevi al canale E noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti e belli Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.